San Giovanni Paolo II è stato un dono straordinario di Dio alla Chiesa e alla Polonia, vostra patria. Il suo pellegrinaggio terreno è iniziato il 18 maggio 1920 a Vadovis e terminato 15 anni orsono a Roma. È stato segnato dalla passione per la vita e dal fascino per il mistero di Dio nel mondo e nell'uomo. Le difficoltà, anche dure, sono una prova della maturità e della fede, prova che si supera solo basando sé sulla potenza di Cristo morto e risorto. Giovanni Paolo II lo ha ricordato a tutta la Chiesa fin dalla sua prima enciclica, Redentor Ominis, dove dice che l'uomo che vuol comprendere sé stesso fino in fondo deve, con la sua inquietudine e incertezza, e anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in Lui con tutto sé stesso. Cari giovani, è questo che auguro all'unio di voi, di entrare in Cristo con tutta la vostra vita, e auspico che le celebrazioni del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II ispirino in voi il desiderio di camminare coraggiosamente con Gesù, che è il Signore del rischio, è il Signore sempre oltre. Grazie. Grazie a tutti.